qui rido io il nuovo film di mario martone è una meraviglia è un film meraviglioso che sono andato a vedere ieri sera ieri pomeriggio al cinema un film magico un film che mi ha conquistato dal quale sono rimasto assolutamente sorpreso perché mi aspettavo un grande film ma non fino a questo punto finora tra quelli che ho visto sicuramente la maggior parte il più bel film italiano del 2021 meraviglioso racconta chiaramente parte della vita di eduardo scarpetta chi era eduardo scarpetta un grandissimo artista ma io direi l'artista l'artista in assoluto per eccellenza in base a ciò che ha creato in base a ciò che la sua figura ha scaturito poi anche negli anni ciò che ha lasciato l'eredità dei figli tra i dei suoi figli anche se mai riconosciuti d'altronde sono stati proprio eduardo de filippo titina de filippo e peppino de filippo che noi nel film vediamo bambini li vediamo piccoli è interpretato in questo film da un mastodontico toni servillo sappiamo tutti chi è toni servillo servillo è uno dei più grandi attori italiani è sicuramente uno dei più bravi ad interpretare a calarsi nei panni di personaggi realmente esistiti o anche della nostra epoca lo sappiamo da giulio andreotti a silvio berlusconi arriviamo proprio a eduardo scarpetta ma in questo caso toni è riuscito secondo me a svolgere un lavoro assolutamente perfetto direi quasi impressionante a partire proprio dalla parlata dalla mimica facciale dai gesti dalle movenze chiaramente sia eduardo nella vita con i suoi vizi i suoi difetti poi ovviamente anche le sue virtù non era certamente un santo non era certamente un uomo perfetto era anche un uomo viziato da dai difetti dell'epoca parliamo della fine dell'ottocento l'inizio del novecento ecco certamente gli uomini dell'epoca non erano molto fedeli non erano molto rispettosi delle proprie mogli tanti figli alcuni come detto non riconosciuti per cui sicuramente un uomo imperfetto come poi in realtà siamo tutti ma anche eduardo al teatro eduardo durante la rappresentazione delle sue opere in scena il film si apre proprio così con una delle tantissime celeberrime rappresentazioni di miseria e nobiltà nei panni felice sciosciamocca il suo personaggio più celebre interpretato poi al cinema anche da totò in tre film che sono un turco napoletano il medico dei pazzi e per l'appunto miseria e nobiltà con la scena meravigliosa la più importante del film in cui tutti salgono sul tavolo e mangiano la pasta anche con le mani se la mette in tasca felice proprio facendo riferimento alla miseria e alla nobiltà dell'epoca un grande cast ad affiancare toni assolutamente da maria nazionale a cristiana dell'anna da iaia forte allo stesso eduardo scarpetta un discendente di questa straordinaria dinastia bravissimo attore giovane che abbiamo visto mesi fa anche protagonista sulla rai di carosello carosone film biografico incentrato sulla vita di renato carosone altro grandissimo artista partenopeo e lui interpreta vincenzo scarpetta uno dei figli di eduardo un figlio che inizialmente eduardo sembra apprezzare relativamente poco vuole che si dia anche lui alla tradizione di miseria e nobiltà che non prenda la sua strada di artista ma anche artista musicale addirittura attore del cinematografo diciamo che eduardo non era un uomo molto aperto anche alle novità alle innovazioni a ciò che di moderno stava arrivando all'epoca poi alla fine però forse e la storia ovviamente ce lo racconta il film ce lo dice anche con delle frasi scritte a fine film riuscirà a rendersi conto del talento del figlio e lo lascerà andare per la sua strada lino musella interpreta benissimo benedetto croce un'interpretazione perfetta anche la sua pier paolo pierobon interpreta gabriele d'annunzio sì perché il film si concentra sicuramente in queste due ore di magia davvero due ore di arte di cinema a tutti gli effetti e che cinema su parte della vita parlando del successo della celebrità e dell'importanza di scarpetta ma poi anche del declino in qualche modo sicuramente determinato anche dalla presenza di gabriele d'annunzio scarpetta andò a vedere la prima della figlia di iorio spettacolo chiaramente di d'annunzio grandissimo successo di pubblico spettacolo impegnato profondo drammatico tragico tra l'altro scarpetta e la sua famiglia per andare a roma a vedere questo spettacolo viaggiano su un treno dell'epoca dei primi del novecento sul quale sono andato anch'io pochi giorni fa perché ho avuto la possibilità di viaggiare su questo treno d'epoca nel mio caso degli anni venti per fare un viaggio nei vari paesini del mio meraviglioso abruzzo e ho notato proprio anche gli stessi quadri le stesse caratteristiche all'interno del treno mi sono sinceramente emozionato andando a vedere la figlia di iorio scarpetta scoppia a ridere perché si immagina subito una sua possibile parodia il figlio di iorio poi diventerà con proprio il figlio vincenzo protagonista insieme a lui e allora poi andrà insieme al suo attore più fedele che poi però purtroppo lo tradirà successivamente da d'annunzio a chiedergli il permesso per mettere in scena questa parodia permesso che inizialmente gli verrà dato poi ritirato attraverso un telegramma dal grande poeta d'annunzio che lo citerà anche in giudizio dopo una rappresentazione alla prima della parodia non andata sicuramente nel migliore dei modi anche a causa di alcuni infiltrati amici di d'annunzio grandi personaggi anche loro realmente esistiti che cercheranno in tutti i modi di boicottare il personaggio viva d'annunzio viva d'annunzio a basso scarpetta ci sarà quindi poi proprio verso la fine del film questa causa in cui scarpetta verrà citato in giudizio durerà molto tanti anni fino al 1908 io ragazzi potrei tranquillamente dirvi quello che accade perché non sono spoiler tutti quelli che vi ho fatto e quelli che potrei ancora farvi perché è storia sono cose realmente accadute ma ci può stare tranquillamente che voi non sappiate nulla di quello che vi ho detto che voi non sappiate come va a finire questa storia d'altronde anch'io conoscevo molto bene scarpetta ma non sapevo certamente tutto quindi è stato un film che mi ha anche permesso di informarmi maggiormente di acculturarmi anche per quanto riguarda la meravigliosa dinastia scarpetta di filippo e quindi non vado oltre sicuramente vi ho detto molto ma ripeto è storia è storia dell'arte è storia del cinema io non posso far altro che consigliarvi di andare assolutamente al cinema a vedere qui rido io il nuovo film di Mario Martone con Tony Servillo nei panni di Edoardo Scappetta mamma mia ragazzi che interpretazione da parte di Tony ma cos'è Tony Servillo non chi è cos'è è un uragano è una forza della natura davvero una delle sue più grandi interpretazioni a mio modo di vedere e ne ha fatte di grandi lo sappiamo tra l'uomo in più le conseguenze dell'amore il divo la grande bellezza viva la libertà film che amo tantissimo di Roberto Andò loro nei panni di Silvio Berlusconi Tony Servillo e Tony Servillo ma in questo caso secondo me si è decisamente superato il mio voto acquirito io è un 9 su 10 9 pieno film meraviglioso e grazie a Mario Martone la sua squadra per averci regalato questa perla assoluta dedicata al grande maestro Edoardo Scarpetta ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano anche se Scarpetta il cinematografo non lo apprezzava particolarmente grazie a tutti